Certo, bella vita voi ristoratori, il Covid vi ha fermato, però avete avuto finanziamenti, le tasse bloccate, insomma è andata bene. Direi che essere stati devastati dal Covid per la nostra categoria è dire poco. Non è vero che è stato bloccato qualcosa perché a settembre abbiamo dovuto pagare gli arretrati delle arretizzazioni, ma a prescindere di questo, la cosa che più mi ha infastidito, che ti dispiace, ti fa soffrire, le 6.500 euro di Tari. Lei ha avuto il ristorante chiuso, quale immondizia ha riciclato? Che cosa sta parlando? Cioè i rifiuti 6.500 euro? Il ristorante è chiuso, cancello sbarrato, in segna spenta, non abbiamo prodotto un chilo di rifiuto, però c'è arrivata la bolletta di 6.500 euro di Tari agli uffici a cui mi sono rivolto, mi hanno detto che questa è la legge, c'è poco da fare. Quindi è un argomento interessante, lei è andata dagli uffici della Terra Mambiente, con gentilezza, rammarico, e hanno risposto che non si può fare nulla. Assolutamente sì, mi hanno detto che questa è la legge, io devo pagare anche se la Tari è un servizio, ma se tu non mi dai questo servizio perché devo pagare?